che puntata non sei puntato sto qui da ma che cazzo stata ti imparata va a giocare non mi puoi pittà non mi puoi pittà puntato hai capito che siamo puntati adesso ora ho rotto il cazzo e lo giuro quindi i viola hanno rotto il cazzo c'è stato ce l'hanno rapido vengono qua per un'area stanno speronati che non sei puntato sei puntato ma io ho detto sto guida ma che sto puntato stai camminando glielo hai detto glielo te stai andando ma che eravamo cinto allora cura di noi che ti vengono dopo fermatevi forse non hai capito allora non mi puoi puntare non mi puoi spero non hai puntato forse non hai capito scendi in macchina alla prossima se stiamo a capire sali in macchina io sargo in macchina ma lo sai che io ti faccio nulla tutto quello che stai a fare 378 si si fanno nullare tutto vai vai l'altro muoviti dietro magari smonti i dispositivi e tutto se non sali in macchina non posso salire dietro dai su no 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 appena davanti fate scendere gli altri fate scendere l'altro cioè in macchina l'altro non scende si si sale con noi sale con noi ma come si è bloccato dai fra fai l e cambia posto l l l e cambia posto fai l se devo andare a macchina no ok ok non posso sale in macchina con una ragazza ragazzi però così non si fa le cose ve lo dico hai capito cominciate a giocare bene ragazzi ve lo dico in nuova non puntare quando volete sale con noi siamo due ignoranti noi dai sali sapete come bro solito bob dovete fare i bravi in città ragazzi ve lo dico fate quello che fai ma a stare con la bibbia eh non puntare a 100 loro i cazzo siete ma no credo togli e benda dagli occhi che vuol dire no no scusate ragazzi cintura ragazzi mi si metti cattola cintura ma ci avete bendato no no sbagliato ragazzi ho tolto i tuoi dispositivi e go pro vabbè vabbè quello ho visto poi passatemi una benda a me ragazzi dai non senti in mente però arriviamo sempre me l'hai disattivato o distrutti? distrutti distrutti ok eh scusami ti non l'hai disattivato così tu? stai zitto ma non frega no è lo sciato non capisci vabbè raga poi ne partiamo comunque raga per la prossima volta non potete puntare gente io l'ho detto bene io l'ho detto io l'ho detto eh non mi fanno ci fanno queste cose ti posso annullare quando voglio al solito al solito eh lo so lo so che cazzo vuoi tu? ci siamo affiancati e vi ho detto di fermarvi no no stavo a camminare no ma hai speronato dai bro ma hai speronato fratello no fatti bravi voi dai fai il cazzone dai piacere senta allora mi fai puntare i finitini giù di fermarti può puntarmi bro mi pare che c'è te ieri che giocate cazzone dove cazzo siamo? ma poi dove cazzo ci stava portando? eh vedo la cento bucche e cazzo ne so qua a curva e a carguetta che cazzo ne so dove sta andando questo beh non ci vedo un cazzo io bro ce ne le pure cosa fate in città voi? io? io sono una settimana in città bro scusa allora mi ha cagato il cazzo perché non siete degli ignoranti e sapete tutto sì una settimana che siete in città no io ho detto ho parlato fuori ho parlato fuori io ho l'Iban 79 hai capito? ti ho parlato fuori un attimo capisci me che ti ho detto quindi cos'è che fate in città? ti ho detto è una settimana che io sono qua in città e cosa fai? io ho un cazzo pesco 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 vado in miniera e vado a pescare come non trovo lavoro cazzo devo fare e mettermi addosso? io sì una una comunque non so con chi sta parlando c'è ancora questa cazzo di benda no no non ce l'ho mai messo ah scusa 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 non l'ho letto e tu invece lo sai che fai in città? io lavoravo prima al concessionario ora lavoravo shadow ma ora mi sto lavorando da là scusate per i modi ma tranquilli più che altro le rega io ho detto siamo quelli più tranquilli quindi no ma io ho detto l'unico consiglio che vedo le rega se dovete puntare qualcuno non puntatelo come avete fatto con noi ma più che altro perché va a nulla va a nulla noi cose ma è successo più di una volta che rapine e cose varie sono state annullate queste cose eh ciao belli che scusateci eh che incredisci comunque grazie di tutto eh è un consiglio ragazzi comunque scusate se vi chiedo eh dove state voi? com'è? ci avete in ghetto penso no? siamo messi abbastanza bene per quello no nel senso che se so qualcosa vi posso venire a dire non sono problemi no meglio che non tieni ah ok sono persone importanti eh basta diciamo che siamo abbastanza agitati come mai? è il nostro modo di vivere ah ho capito bene criminali siete penso sempre in guardia non mi ricordo più dove cazzo vi abbiamo rotto i quadri eh vabbè lasciami qua io ando qua la macchina lasciami qua tranquillo sicuro va bene c'è qualche gioco signori scusate buonasera ragazzi però le dico una cosa mi ha detto una cazzata allora o i suoi gli hanno detto una cazzata ma riguardo a che cosa? riguardo a rapimenti stasera quindi lei faccia un passo indietro che le faccio vedere cazzate che succede venga venga vicino a me ok fate fuori tutti e cinque ma perchè scusi? pure quello che se n'è andato a destra ok ok perchè avete rapito tre persone stasera io ne so c'ho la prova quindi mi ha detto una cazzata si faccia dire da suoi verità prossima volta e se salta fuori che non siamo stati noi? siete stati voi grazie